...designer di tutto il mondo e anche i griff abbastanza conosciuti, per esempio nella sala, sotto c'è una sala dedicata al progetto Una Contra della Monta, dove ci sono tessuti di regalentino, tecce di albano, ecco, tu sai, di vestace, insomma, iniziano anche collaborazioni quindi con personalità che non siano più solo designer e architetti, ma che rientrano invece in allenare i camion, in altri camion, in altri settori.